No, non vi è sovrastimato perché basta fare un giro nelle città per rendersi conto di qual è la situazione. Ma del resto, scusate, l'altro giorno a Vicenza la Prefettura ha fatto un bando per 74 milioni per l'accoglienza degli immigrati. Quindi sarà anche vero che quest'anno ne sono arrivati di meno, perché c'è stato il blocco, come tutti quanti sappiamo. Ma è evidente che il numero di quelli che sono arrivati in passato non se ne sono andati, si sommano. Quindi fate i conti.